Nelle prime ore della mattinata, nelle province di Salerno, Cosenza e Trento, i militari del comando provinciale salernitano, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano e del nucleo cinofili di Sarno, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 38 indagati, 16 in carcere e 22 agli arresti domiciliari, gravemente iniziati a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione porto abusivo di arma da guerra, lesioni, danneggiamento seguito da incendio e distorsione. I provvedimenti scaturiscono da una complessa ed articolata attività di indagine avviata dalla Compagnia di Salerno nel 2017 e svolte con il costante coordinamento della direzione distrettuale antimafia del capoluogo salernitano. È stata condotta con metodi tradizionali, con il supporto di attività tecniche, mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, resi ancora più difficili dal contesto urbanistico dell'area di intervento, in particolare del centro storico della città, fatto di Budelli e Vicoli. L'indagine ha permesso di ricostruire l'esistenza di un'associazione a delinquere dedita alla Commissione dei Suddetti delitti, con una disponibilità di notevoli quantitativi di stupefacente del tipo cocaina a scisceroina, gravitante attorno alla figura di Ciro Persico 1. Nel corso delle attività sono emerse inoltre concrete responsabilità in capo ai vertici dell'organizzazione riguardo ad alcuni atti intimidatori, tra cui l'incendio di diverse autovetture ed una gambizzazione ai danni di esponenti della stessa fazione criminale per effermare la propria leadership sul controllo dello spaccio, in particolare nella frazione materno del comune di Salerno, su cui avevano esteso il loro interesse. L'attenzione degli inquirenti si è poi rivolta allo storico gruppo delinquenziale di riferimento del villaggio dei Puffi, area di edilizia popolare salernitana del quartiere Mariconda, legato ai pregiudicati Mauro Natella, Alfonso Fruncillo e Maurizio Desio, che per la vendita della droga si avvalevano dei servizi di pusher domiciliati proprio in quel quartiere, talvolta legati ad essi dai rapporti di parentela, approvvigionandosi della merce sia del Persico che direttamente dall'Interland napoletano. È stata in sintesi documentata una vera e propria guerra senza esclusione di colpi per il controllo delle piazze di spaccio in tutto il capoluogo salernitano ed in diversi comuni della provincia, fatta di svariate aggressioni e gravi atti intimidatori perpetrati per tutto l'anno 2017, a riprova delle carature criminali dei soggetti colpiti dalle odierne misure custodiali e della loro assoluta pericolosità sociale. Nel corso dell'attività investigativa chi ha rivelato un fatturato illecito giornaliero di 4.000 euro circa sono stati arrestati 11 indagati in flagranza di reato e sequestrati complessivamente 70 chili circa di stupefacente, nonché 4 pistole ed un fucile.